bene dovremmo essere in onda buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento di virtual studio l'unico programma di divulgazione scientifico universitaria che potete seguire ovunque anche sotto l'ombrellone quella di oggi è una puntata che rientra nel nostro ciclo di incontri dedicato al simus il sistema museale universitario senese con noi in collegamento la professoressa vera montalbano docente di didattica della fisica presso il dipartimento di scienze fisiche della terra e dell'ambiente direttore della fisica nella scuola rivista didattica dell'associazione per l'insegnamento della fisica e che oggi è con noi non solo ma soprattutto in qualità di direttore delle collezioni degli strumenti di fisica dico non solo ma soprattutto perché le attività svolte dalla professoressa montalbano sono numerose non sarebbe sufficiente una puntata intera elencarle tutte ma vedrete che impareremo a conoscerla meglio nel corso di questa puntata professoressa parliamo appunto delle collezioni degli strumenti di fisica ce le racconti sì la collezione nasce negli anni diciamo 70 circa 60 70 per l'interesse del professor Pier Giorgio Bergamini che ha raccolto gli strumenti e poi li ha anche sistemati ha recuperato cos'erano e quant'altro e ha trovato una collocazione particolarmente decorosa insomma bella nella nuova sede del dell'allora dipartimento di fisica che era la sezione di fisica del dipartimento di scienze fisiche della terra e dell'ambiente abbiamo moltissimi strumenti sono centinaia alcuni molto molto belli che sono stati anche raccolti con foto professionali che sono quelle che qui vediamo con lo sfondo bianco in un in una pubblicazione del simus che si chiama materiali credo e come vedete però sono estremamente assiepate in queste teche questo corridoio della nostra sezione e eh notate le bellissime si fa per dire è ironico eh etichette che descrivono lo strumento vedete sono dei cartoncini gialli anche un po' datati dove c'è praticamente il nome dello strumento è circa l'anno e nient'altro e questo eh mostra un un limite della nostra esposizione che eh ne impedisce la fruizione totale da parte del pubblico come collezione degli strumenti di fisica facciamo molta attività didattica con le scuole in sinergia con con insegnanti con classi intere con piccoli gruppi e in realtà la parte diciamo la parte che non si vede è quella legata propria attività che si svolgono poi invece nel laboratorio di ricerca didattica che collabora pienamente con la collezione eccolo qui infatti infatti sappiamo che lei è anche responsabile appunto del laboratorio di ricerca didattica in fisica e scienze integrate che appena citato e che vediamo in sovraimpressione come si coordinano le due attività sì allora nel laboratorio di ricerca didattica si fanno molte attività di orientamento in particolare per il piano collaborazione col piano di lauree scientifiche e eh si fanno dei laboratori quindi estremamente di approfondimento anche molto lunghi che possono durare anche più di di un anno scolastico e eh però queste attività sono si sono come dire intrecciate molto bene con alcune attività del simus e della collezione che sono proprio rivolte alle scuole e quindi facciamo sia percorsi di alternanza scuola lavoro sia percorsi di approfondimento sia anche e invece attività del tipo eh musei per la famiglia musei per gli studenti cioè eh apriamo la collezione dove in realtà la collezione avete visto è un corridoio dove c'è tantissime ci sono tantissime cose molto assiepate e poco parlanti per intendersi allora quello che si fa è che si sceglie uno o due temi per esempio misurare con la luce oppure eh vedere l'invisibile insomma si sceglie un tema e questo tema viene sviluppato nel laboratorio di ricerca didattica eh con attività di solito hands on cioè attività in cui chi partecipa fa qualcosa deve essere in qualche modo un po' attivo e eh che sono collegate però ad alcuni degli strumenti questo sì degli strumenti della collezione. la ringrazio per la sua introduzione per aver presentato eh questo luogo eh diciamo quasi magico è avvolto insomma da un da un'aura come ho visto anche un po' vetusta da da questi bigliettini andiamo però infatti mi ricollego a a bigliettini che lei ha fatto notare prima al fulco della puntata di oggi che è dedicata a un progetto particolarissimo che è adotta uno strumento. So che la storia di questo progetto è molto lunga e tormentata. Vorrebbe parlarcene? Sì eh il progetto nasce inizialmente come un un progetto come la richiesta di un finanziamento di partecipazione a un progetto nazionale per reti di scuole in cui in cui sono stata coinvolta da dal dirigente di una scuola del nostro territorio del dell'ITIS Avogadro di Abbadia San Salvatore e in quel frangente c'erano venivano finanziati pochissimi progetti a livello a livello nazionale e eh pagava appunto un avere una grande sinergia con sia con le reti di scuole sia con gli enti del territorio. Allora noi abbiamo pensato a questa attività che fosse un in qualche modo una corrispondenza ad amorosi sensi fra le scuole del nostro territorio e in i nostri musei e poi anche la valorizzazione del patrimonio culturale dentro i musei. E alcune di queste attività alcune delle idee che stanno alla base del progetto in realtà erano già sviluppate in attività appunto del del piano lauree scientifico comunque già ci stavano pensando però questa è stata l'occasione per mettere a sistema tutto qui c'è un po' un elenco di tutte le varie attività che sotto vari nomi si facevano. In particolare il progetto del che da più che decennale del SIMUS che è l'ESCAC, l'educazione scientifica per la cittadinanza attiva e consapevole è particolarmente adatto per questa per questa cosa. In questo frangente noi abbiamo sviluppato dei percorsi appunto molto molto attivi dove i ragazzi fanno molte cose in laboratorio e secondo noi questo avrebbe potuto portare anche a un vantaggio per il museo. Il vantaggio che ora tra un attimo andremo a vedere è quello proprio di rendere un po' più attuale il modo di fruire, di valorizzare il patrimonio che viene conservato dentro i nostri musei. Allora ovviamente come tutti i musei, i musei piccoli soffrono di carenza di fondi e di personale e quindi la realtà senese è molto articolata da questo punto di vista perché ci sono i nostri otto musei del SIMUS, poi c'è la fondazione dei musei senesi a cui noi facciamo riferimento, aderiamo dove c'è anche l'Accademia dei Fisiocritici e tutta una rete di piccoli musei che sono calati nel territorio, che hanno al loro interno delle cose anche molto valide che però sono misconosciute, misconosciute anche perché non ci sono i fondi per valorizzarle adeguatamente. Allora l'idea era quella appunto in questo progetto di far sì che le scuole contribuissero a valorizzare questo patrimonio utilizzando però anche le capacità dei ragazzi in un progetto che potesse essere in qualche modo coinvolgente per loro. E qui sta proprio il discorso dell'adozione. Allora, per intanto da cosa partiamo? La collezione degli strumenti di fisica è una di quelle che è più online per intendersi, nel senso che abbiamo, proprio grazie del fatto che abbiamo fatto questa catalogazione, questo libro con i nostri oggetti più belli che sono stati fotografati e questa però è la nostra visita online, è questa, la nostra visita virtuale fatta con queste tristissime schede dove è già difficile capire come scaricare la foto bella e ma anche se uno la scarica poi dopo le informazioni legate proprio allo strumento sono più una scheda di archivio che non una scheda per poter fruire effettivamente, capire di che si tratta, capire di che si tratta, collocarlo storicamente, capire come funziona dal punto di vista della fisica perché è importante. Allora questo è quello da cui siamo partiti e volevamo insomma migliorare questa situazione. Ovviamente il discorso dei fondi sta nel fatto che se uno avesse fondi infiniti lo darebbe a società esterne, verrebbero delle cose fantasmagoriche con un po' di tempo chiaramente a disposizione. Invece l'idea del progetto, l'obiettivo della deduzione è proprio quello di far produrre a gruppi di ragazzi una scheda che sia il più possibile multimediale, che vada a valorizzare proprio il bene adottato e ne faccia comprendere il suo valore culturale sotto tutti i punti di vista e anche magari nel modo più inclusivo possibile, quindi che possa essere fruito anche da persone con bisogni educativi speciali. C'è un esempio più avanti che è quello del daltonismo oppure anche delle persone che ipovedenti e così via. Per esempio una scheda multimediale potrebbe essere, potrebbe avere poi anche una ricaduta per esempio su un oggetto invece che è una scheda invece fisica che possa essere per esempio scritta in braille, ma anche questa è una cosa che va fatta e per realizzarla magari si possono usare stampanti 3D. Quindi le competenze che i ragazzi vanno a sviluppare, sviluppare queste schede multimediali possono essere fra le più varie anche le più interessanti anche dal loro punto di vista. Tutti i prodotti vengono creati in licenza a Creative Commons in modo che le scuole le possono riutilizzare così come le possiamo riutilizzare a tutti i livelli e non solo, possiamo riutilizzarli come punto di partenza per migliorarli. Assolutamente. Per ora a chi è solo dedicato il progetto? Allora, inizialmente il progetto era pensato per rete di scuole. Poi in realtà questo mega concorso nazionale ha avuto dei ritardi geologici per cui quando siamo arrivati alla seconda selezione avevamo perso parecchi degli enti che ci avevano supportato all'inizio e quindi insomma alla fine questo progetto non è stato, non l'abbiamo vinto. Però siccome l'idea ci sembrava buona abbiamo continuato a promuoverla attraverso il PLS per intenderci e anche attraverso l'ESCAC. In entrambi i casi abbiamo avuto due o tre scuole che hanno insegnanti che sono stati interessati e hanno coinvolto dei gruppi di studenti che hanno seguito proprio l'iter del progetto cioè sono andati a scegliere su un portfoglio preparato dagli operatori museali e su un elenco ragionato di insieme all'insegnante di quegli studenti abbiamo guardato quali potevano essere gli strumenti collegati alla fisica che veniva poi fatta effettivamente da quella classe, da quegli studenti in quell'anno scolastico o al massimo l'anno scolastico successivo. Si sono selezionati 4-5 strumenti, sono stati presentati ai ragazzi, se ne è stata presentata anche le possibilità di sviluppo come lavoro da parte loro, loro a quel punto ne sceglievano uno e su questo cominciavano a lavorare e nel lavorare possono fare tantissime cose, nel senso possono arrivare, cosa che vedremo penso nella prossima slide, possono fare tante cose, possono per intanto sviluppare, cioè l'ordine zero chiaramente è capire come funziona l'oggetto e quindi devono utilizzare, sviluppare i contenuti disciplinari di fisica ma anche interdisciplinari, vedremo un esempio dopo dove c'è dentro anche la chimica e poi per andare a costruire, chiaramente poi ci sarà anche la storia, la storia della scienza e quant'altro, per andare a costruire questo, poi la scheda multimediale però devono acquisire anche competenze di tipo informatico che possono essere già state sviluppate a scuola oppure possono essere invece frutto di interessi personali di questi ragazzi. La nostra idea è che l'adozione avvenga da parte di una classe, nella classe ci sono persone più interessate all'informatica, qualcuno più interessato alla storia, qualcuno più interessato alle lingue e quindi l'idea è di dividere in gruppi, cosa che ovviamente segue l'insegnante, fa l'insegnante, seguendo anche proprio le attitudini e gli interessi di questi ragazzi. Ci piacerebbe però molto che per esempio venissero sviluppati, si ponesse anche il problema appunto dell'inclusione, che quindi venissero sviluppati anche degli aspetti più legati a una fruizione completa anche da persone che possono avere appunto dei bisogni educativi speciali. In particolare l'esempio che faccio io sempre è proprio quello del daltonismo. Il daltonismo è un tipo di ipovisione molto molto diffuso ma poco conosciuto, poco conosciuto anche dagli insegnanti stessi. Va bene, qui ci sono, ora ci sarà una serie di esempi di adozione, qualcuna che è stato effettivamente fatto, per esempio questo, il pendolo elettrico perpetuo di Zamboni è, se vogliamo, il nostro strumento più bello, lo strumento della collezione che è più bello perché è proprio bello a vedersi, ha delle parti in oro, tutte cesellate, è veramente bello e poi è un ex dono di Ferdinando, del Granduca di Toscana, quindi insomma c'è anche una certa qual storia. In più non è per niente ovvio su come funziona e perché funziona, a parte il nostro non funziona, ma è estremamente interessante vedere anche come, magari se torniamo un attimo, rimaniamo su questo, estremamente interessante anche a vedere appunto, per esempio perché far capire ragazzi, far arrivare attraverso un percorso di disciplinare, capire perché, per esempio, questo tipo di pendolo non può essere utilizzato per misurare il tempo, perché in realtà si va a scoprire che ha un periodo variabile nel tempo perché dipende da quanto sono cariche le due pile. Allora le due cose di lato sono le pile zamboni e sono pile a secco che hanno durato, questo si chiama pendolo perpetuo perché riescono a durare anche più di centinaia d'anni, più di qualche centinaia d'anni. Quella di Oxford, sempre fatto da zamboni, stessa tipologia di pendolo, non un pendolo, in quel caso le pile zamboni alimentano un campanello elettrico, allora il campanello elettrico riesce a suonare, ha suonato fino agli anni 30-40 perlomeno, cioè quindi dell'ordine di 200 anni. Allora capire per intanto che esistono queste, questo tipologia di pile, perché queste pile non le troviamo al supermercato? Questa potrebbe essere un'altra domanda. possiamo ricostruirle? Sì, se la ricetta zamboni ce l'ha lasciata, ma alcuni dei materiali che ci sono non sono più facilmente reperibili, allora possiamo trovare materiali analoghi. Cioè si apre, ognuno di questi strumenti, per studenti curiosi, apre veramente un mondo di possibilità come cose. Poi vedete storia, storia della scienza. Le lingue, per le lingue la possibilità poi una volta che uno ha costruito una scheda più o meno accettabile, pensare di tradurle in altre lingue, quindi in inglese, in francese o anche lingue forse meno note, ma che comunque potrebbero avere un interesse, comunque un modo per valorizzare ulteriormente il bene culturale. E poi da questo si può arrivare al laboratorio appunto di approfondimento, cioè il massimo, veramente la cosa che più piacerebbe a tutti, insegnanti compresi, è arrivare al punto che i ragazzi ricostruiscono una versione didattica dello strumento che poi può rimanere nella scuola. E nel caso del PLS noi siamo anche disponibili a finanziare la costruzione, nel senso apprendere a comprare i materiali noi, non senza far spendere nemmeno nulla alla scuola. Questo però richiede dei docenti e degli studenti molto, 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 molto motivati, questa è la cosa che sono percorsi anche abbastanza, che per essere fatti bene richiedono anche molto tempo e molta passione da parte degli studenti. E quindi anche se un paio di volte è stato adottato il pendolo, che privadisco è uno strumento abbastanza complesso da esplorare. Alla fine la scheda multimediale prodotta, vuoi perché si arrivava in fondo all'anno, il primo gruppo era un gruppo di studenti che ha cominciato in quarta ma ha finito in quinta, in quinta poi c'era l'esame di stato e quindi alla fine poi queste schede, secondo me, quelle che si sono avute finora non rendono onore a tutto il lavoro che hanno fatto i ragazzi. Perché quando si arrivava poi a sintetizzare nella scheda multimediale si era un po' meno concentrati, il tempo era poco e via. Quindi diciamo che l'idea è buona, però la realizzazione, almeno queste realizzazioni che abbiamo fatto in questi anni, in via sperimentale, non hanno portato a delle schede pienamente soddisfacenti e quindi speriamo appunto di poter, l'idea per cui oggi vi parlo di questo progetto è quella di estendere questa adozione anche agli studenti universitari, perché secondo noi invece gli studenti universitari hanno un'attenzione nei confronti poi anche della valorizzazione del lavoro che hanno fatto e del poter dire l'ho fatto io che è molto più forte che non quella degli studenti, delle superiori. Alla fine è evidente che se uno produce una scheda multimediale ma anche basic, alla fine ci sarà l'autore, sarà pubblica, sarà online, quindi uno potrà sempre dire quella l'ho fatta io come cosa, che secondo me ha sempre comunque un suo valore. Oltre che poi gli studenti universitari hanno un maggior numero di, un più ampio spettro di competenze e di interessi e quindi possono approfondire molto di più alcuni degli aspetti che sarebbero utili per avere delle schede davvero interessanti, che potrebbero diventare davvero la marcia in più per i nostri beni culturali, per i nostri musei. Inoltre l'idea, se infatti andiamo avanti, è che vedete qui non è più la collezione degli strumenti di fisica ma è l'osservatorio che è un'altra struttura del SIMUS e in questo caso questa è una realizzazione fatta nell'ambito di un'alternanza scuola-lavoro, quello che è stato fatto è stato quello poi di produrre un piccolo exhibit. I ragazzi hanno prodotto questo piccolo exhibit che con grande fortuna non si riesce a vedere, ovviamente prima si vede tutto e ora non si vede più nulla. Ma è il bello della diretta questo. È il bello della diretta. Ok, allora, quella a sinistra è il filmato preso da una sonda giapponese, credo, di un asteroide e quello di destra invece, come questo filmato, è stato utilizzato in un piccolo exhibit prodotto dai ragazzi che attraverso un'app dedicata e questa costruzione di questa piccola struttura in plexiglass si riesce a ottenere una visione in 3D del nostro asteroide. È una cosa carina per i ragazzi che la fanno, interessante dal punto di vista della fisica che c'è dietro, nonché anche dell'informatica, ma io sono più dedicata, interessata agli aspetti fisici, cioè perché questo semplice apparato ottico consente di avere una visione tridimensionale del filmato che invece è in due dimensioni, perché il filmato è un normale filmato preso da una normale videocamera. E quindi anche questo sono approfondimenti estremamente interessanti. Di nuovo, questi progetti in realtà non fanno altro che seguire, fare delle proposte, agli studenti e poi seguendo i loro interessi stimolarli in approfondimenti che comunque gli permettono di sviluppare delle competenze. Allora, il bello però di questa idea è che si può applicare non solo appunto a cose legate alla fisica o alle scienze dure, ma si può applicare anche a altre cose, ai quadri, andandone a seguire aspetti appunto di storia, storia dell'arte, chimica e fisica dei colori. Di nuovo recuperiamo le scienze dure, però a questo punto legate al quadro, eventualmente come si alterano, quali strumenti multimediali posso utilizzare poi per organizzare e condividere le informazioni raccolte. E qui sull'aspetto informatico si apre un mondo se appunto c'è interesse, perché uno potrebbe pensare di condividere, di fare schede multimediali diverse a seconda del tipo di pubblico che c'è, che possono essere esplorate. Perché io sono un bimbo di sei anni, ho il pulsantone con il coriglietto, seguimi, seguimi, e lì mi viene spiegato il quadro e la storia del quadro con un linguaggio adeguato. Oppure sono invece più uno studioso e voglio un approfondimento, allora clicco sull'approfondimento e così via. Il realizzare questo all'interno di una scheda multimediale richiede anche di, non solo di averci l'idea, ma poi di saperle anche realizzare nel modo più congruo e utilizzando ovviamente gli strumenti più attuali. Ma è il bello del lavoro in team, ognuno mette a disposizione del progetto le proprie skills, come si chiamano adesso in inglese, le proprie abilità, le proprie competenze, che abbiamo detto, ripetiamo, vanno al di là anche delle proprie competenze, diciamo, formative, accademiche. Certamente. Magari uno studente di istoria dell'arte che comunque ha, diciamo, delle competenze nell'ambito della digitalizzazione e dell'editing informatico può partecipare a un progetto simile anche nell'ambito di uno strumento della fisica e apportare, diciamo, il suo contributo. Sicuramente è un contributo interessante. Poi comunque è anche vero che uno studente che si occupa appunto di aspetti, parte da un percorso umanistico, si avvicina all'arte da un percorso umanistico, sicuramente è ben presente che poi nella professione, se riesce a seguire questo suo interesse e a farne la sua vita professionale, sa perfettamente che poi nei musei, quello che serve nei musei, quelli davvero, insomma, un pochino più all'avanguardia, con un po' più di risorse. Per intendersi, questo è il cammino, questo è il posto dove c'è, quello che davvero conta è la qualità degli exhibit e gli exhibit per essere, per attrarre pubblico devono sfruttare al meglio possibile non solo le idee, ma anche la realizzazione, soprattutto utilizzando appunto risorse di tipo informatico. Quello che mi fa piacere è che nelle ultime due interviste qui a Virtual Studium per il Simus i nostri ospiti stiano lanciando, insomma, le proprie idee, i propri progetti, quindi siamo orgogliosi di Virtual Studium, di essere il mezzo con cui queste idee si diffondano e forse, ci auguriamo di sì, potranno attecchire come sperato, quindi lanciamo questo appello, insomma, cerchiamo di far partire questo progetto, diciamo, in simbiosi con l'università, in modo che anche gli studenti universitari possano adottare gli strumenti della collezione di fisica. Certamente, ora chiaramente il modo più semplice è contattarmi, però in realtà quello che noi ora vogliamo fare è utilizzare anche tutti gli strumenti che mette a disposizione l'università per valorizzare appunto il lavoro dei propri studenti anche in attività trasversali come queste e quindi abbiamo saputo dell'esistenza di questa cosa che si chiama Open Badge e speriamo di inserire questo tipo di attività in questa valorizzazione anche di competenze trasversali. Soprattutto, comunque, al di là della realizzazione della singola scheda, il pensare, mettersi nell'ottica di realizzare qualcosa che comunica in maniera efficace contenuti di tipo scientifico, ma scientifico in senso assolutamente più largo possibile, più vasto possibile, perché scienze è anche la storia, scienze sono anche le scienze umane, quindi diciamo la capacità di comunicarle a un pubblico vario, generico, cioè non specialistico, è estremamente importante nella vita di tutti noi ed estremamente importante nella vita professionale nostra e dei nostri studenti e quindi mettersi in gioco da questo punto di vista secondo me è estremamente importante e utile poi per il futuro anche per i nostri studenti. È chiaro che un evento come questi incontri di virtual studio ci permettono di farci conoscere e far arrivare queste idee anche a studenti che non avremmo mai modo di contattare, perché anche se noi lanciamo una call attraverso le varie mailing list dell'università è sempre una cosa scritta, triste, cioè di cui non si riesce a far cogliere effettivamente che cosa c'è sotto e le potenzialità che ci sono. Sì, sì, è difficile sintetizzare all'interno di una mail questa... No, ne riceviamo centomila tutti quanti e quindi le leggiamo con un livello d'attenzione che è giusto per intendersi, per cui... Sì, è un eutomismo per non dire troppo basso. Allora, io poi non so entrare nel merito, però chiaramente la nostra università ha una serie di strumenti, anche proprio di laboratori che possono essere coinvolti. Quando si parla di realtà aumentata è ovvio che ci vogliono competenze che non ho io, ma che hanno altri nella nostra università. Quando si parla di video interiattivi si possono cercare anche nel panorama internazionale. Quando si parla di stampa in 3D è chiaro che si ha in mente di coinvolgere il Fab Lab qui sopra a Santa Chiara. Quindi, insomma, ci sono tutta una serie di facilities della nostra università che se c'è motivo, se c'è un progetto ben motivato, possono essere coinvolti. E a proposito di facilities, l'abbiamo nominato prima, forse un po' distrettamente, ma lo specifichiamo per chi magari non avesse mai sentito parlare. L'open badge è proprio una certificazione elettronica che non dà dei crediti formativi o comunque non modifica la media universitaria, quindi studenti che ci ascoltate, non esaltatevi troppo. Non so, certifica all'interno di un curriculum digitale le competenze trasversali. Quindi tutte quelle competenze che non possono essere riconosciute perché magari sono devianti rispetto alla disciplina accademica che si studia, però sono magari importanti per il lavoro futuro, per dei contatti, per un dottorato, per tutte quelle cose che stanno all'esterno dell'università e che devono in qualche modo essere certificate. Quindi fanno parte di quel bagaglio culturale e personale che ogni studente ha e che l'università cerca di valorizzare in questo modo. Se mi permetti vorrei commentare un attimo questa cosa. Allora, di questo open badge, me ne hai parlato te nei giorni scorsi, quindi è proprio recentissima questa cosa, e veramente l'ho trovata una cosa estremamente interessante perché permette appunto di valorizzare molti aspetti del lavoro dei nostri studenti che non emergono dall'aver seguito certi corsi. da noi ci sono degli studenti che hanno fatto per esempio per la notte dei ricercatori, per intendersi, hanno pensato, chiaramente stimolati anche da alcuni docenti, però talvolta anche in modo anche abbastanza autonomo, hanno anche pensato come poter fare, realizzare appunto degli exhibit legati a certi argomenti specifici. E ci hanno lavorato anche tanto. E allora vedere che non c'è modo se non all'interno di un corso di dargli un voto in più, un voto in meno, ma qui siamo ben oltre il voto in più per in certi casi, a noi fa piacere scoprire che si possa in qualche modo far emergere anche questo e farlo in qualche modo attestare da parte dell'università. Cioè questo studente ha fatto sì i suoi corsi, ha ottenuto tutti i suoi CFU con le sue votazioni, ma in più ha fatto anche tutte queste altre cose dove ha sviluppato delle competenze che secondo me sono molto interessanti poi per la vita professionale futura di tutti. Quindi io la trovo veramente un'iniziativa molto interessante, quindi cercheremo in tutti i modi di utilizzarla al meglio con il Simus, ne abbiamo già parlato e ora c'è solo da capire come formalizzare il contenitore e chiaramente si va per anni accademici, quindi per quest'anno, a parte quest'anno ormai sta finendo per intendersi, per il prossimo anno accademico ci attrezzeremo e vedremo un pochino come poter far valorizzare appunto queste cose. Nel frattempo Davide Orsini, che è un nostro affezionatissimo ascoltatore, ormai ci segue sempre, ci commenta sempre con affetto, a parte questo commento di complimenti, l'offerta dei musei universitari è assai ricca, la tenda dovrebbe farla conoscere sempre di più, dice una cosa molto interessante, appunto il sistema museo universitario, di cui Davide Orsini è il direttore, l'abbiamo avuto anche come ospite qui a Virtual Studio, sta attivando un open badge sulla museologia e quindi direi che questa iniziativa dell'adotto uno strumento ti rientra proprio a pennello. Sì, sì, lui fa da apripista, ha già fatto da... Lui in questo anno accademico sta apprendo appunto questo sentiero, però è un sentiero che secondo me potrà avere molti risvolti anche per tutti gli altri musei del Simus, proprio perché ci sono molte attività che possono secondo me rientrare in questo sviluppo delle competenze trasversali dei nostri studenti e poi un modo anche per incentivare gli studenti a partecipare di più a queste attività forse, speriamo, e quindi a noi non ci fa solo piacere avere più studenti intorno. Sì, per creare una vera comunità studentesca, senza essere poi divisi in vari dipartimenti. Esiste addirittura, ho scoperto di recente, una mansione che è quello del knowledge manager che si occupa di gestire questi flussi di conoscenza all'interno di un'organizzazione. Per cui in organizzazione e università gestire questi flussi di conoscenza, di competenze trasversali è importantissimo perché ognuno con le proprie competenze che possono afferire sia ai propri ambiti di ricerca e di studio, sia al proprio bagaglio personale, possono contribuire appunto alla sviluppo e alla crescita di un progetto così interessante, così bello come quello che Vera Montalbano ci ha appena descritto, illustrato con compassione e vivacità e per questo la ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi, di aver accettato il nostro invito e di averci parlato con libertà e schiettezza, estrema schiettezza. Vabbè, io ringrazio voi proprio perché appunto siete una finestra sul mondo studentesco che è estremamente importante. E il discorso dei flussi di conoscenza è importante perché quelle rarissime occasioni, no, rare occasioni perché appunto giusto appunto il mio tempo è un po' quello che è, quindi qualche apertura della collezione proprio legata a queste attività che dicevo prima, tipo museo familiare, c'era anche il museo per gli studenti e in questa occasione si sono iscritti pochissimi studenti, non di fisica per interno, quelli di fisica già ci conoscono quindi non è che si iscrivono a queste cose, però studenti altri se ne sono iscritti veramente pochissimi e sono proprio cascati sulla via di Damasco perché non si aspettavano il tipo di attività che gli si andava a proporre proprio perché sì, perché chiaramente sono attività di tipo coinvolgente che cercano appunto di attraverso anche lo stupore e l'interesse di attrarre l'attenzione del pubblico ed è molto carina che questa cosa, cioè da un lato è un peccato, è un peccato perché si vede che anche queste cose che tra l'altro sono promosse mi sembra dal diritto allo studio universitario, cioè queste aperture straordinarie dei musei per gli studenti universitari, secondo me sono anche poco conosciuti o poco promosse a livello, insomma perché non erano in momenti in cui non c'erano pochi studenti a Siena, una volta che capiscono di che si tratta, gli studenti sono getto sul cuore oltre ostacoli, vengono dietro, anzi vengono anche avanti dalla passione che ci mettono, è proprio un problema di conoscenza, cioè del fatto di capire che quella cosa può essere un'attività interessante e stimolante, proprio per questo forse appunto oltre le mail queste chiacchierate sono forse anche più importanti e quindi ringrazio la vostra disponibilità e il vostro entusiasmo anche nel presentare quello che le nostre proposte. Io penso di poter parlare a nome di tutti quelli che collaborano a Virtua Studio, siamo lusingati del suo apprezzamento, tra i commenti mostrerei quello di Daniela Franci che dice oltre alla particolarità i nostri musei scientifici rappresentano uno strumento formidabile per l'orientamento, brava, vera, direi che si collega benissimo che quello che abbiamo detto proprio adesso. Quindi oltre ai complimenti personali per lei e per la sua sincerità, insomma la sua lucidità anche di pensiero, c'è anche questa... Sì sì, sicuramente siamo uno strumento anche per l'orientamento, infatti il piano laurea scientifica non l'ho detto ma di questo si occupa principalmente come cosa. E tra l'altro poi un ultimo, ormai sono partiti anche l'equivalente umanistico del piano laurea scientifica che sono i cosiddetti POT, Piani di Orientamento e Tutoraggio e con un'indicazione a livello nazionale per chi si occupava del piano di laurea scientifica e di una stretta collaborazione con i POT proprio per, come dire, da un lato condividere le nostre esperienze ed eventualmente creare anche delle occasioni di orientamento interdisciplinari o multidisciplinari anche a cavallo tra gli aspetti più scientifici o di scienze dure e invece gli aspetti più umanistici, culturali o storici. E da questo punto di vista secondo me a Siena siamo riusciti e stiamo riuscendo a fare anche qui delle cose abbastanza carine, in particolare abbiamo promosso una serie di seminari che è tristemente naufragata nel lockdown, quindi non si è conclusa, ma la riprenderemo in autunno su Scienza e Fantascienza come momento di riflessione e anche lì di nuovo c'è una forte connotazione di divulgazione scientifica da un lato, di divulgazione scientifica in senso estremamente largo, ma soprattutto poi di orientamento che dal mio punto di vista non può e non deve essere semplicemente cercare di portare l'acqua al mio mulino cioè a accaparrare l'interesse del maggior numero possibile di studenti perché si vengono a iscrivere qui da me al mio corso di laurea, ma deve essere invece un modo per stimolare gli studenti a far, a comprendere quali sono per intanto la vastissima offerta formativa che c'è nelle nostre università. a cui corrisponde poi veramente un universo di possibilità poi nel mondo lavorativo dopo l'università e secondo me i ragazzi devono avere la possibilità di essere esposti al maggior numero possibile di queste cose anche nel modo forse più stimolante, più interessante, in modo che proprio ci possano vedere una progettualità di vita cosa che se uno rimane con le scatoline, i cassettini con sopra scritto chimica, fisica, storia, latino, economia forse ne vedono dieci mentre invece sono milioni e queste attività sono proprio il tentativo da parte nostra di aprirgli un pochino gli orizzonti, di fargli vedere un po' più oltre, al di là del loro naso e anche vedere le possibilità perché se i ragazzi vedono delle possibilità poi sono estremamente determinati e ci mettono dentro tante energie per poi costruire e costruire anche cose nuove e anche innovative che è quello che davvero serve poi alla fine alla nostra società. E Vera Montalbano ci aprirà nuovi orizzonti anche mercoledì 1 luglio quindi non temete perché questo non è un congedo, non è un addio ma è un arrivederci e a prestissimo perché sarà nuovamente nostra ospite. Vabbè, ci vediamo la settimana prossima, detto in parole povere, quindi arrivederci a tutti e ancora grazie. Grazie a lei, ci rivediamo mercoledì 1 luglio e quindi se volete sentire nuovamente la nostra splendida Vera Montalbano collegate e rivedete su Virtual Studium. Grazie a tutti.